Dopo aver sfatato il tabù vittoria al pala del Mauro, è già tempo di tornare in campo per la Sandra Abate. Venerdì 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, la squadra di Piero Basile affronterà l'Ecositi Genzano, guidata dall'ex Cicci Angelini, gara che si disputerà alle 18.30. Il mezzo vinto contro la Fortitudo Pamezza è stata una grossa iniezione di fiducia per il gruppo. La squadra di Basile, pur con qualche defezione, è riuscita a superare l'ostacolo laziale. Il protagonista assoluto è stato l'estremo difensore Gianluca Parisi, un vero baluardo in campo. Prestazioni che non sono passate inosservate dalla nazionale, guidata dal CT Massimiliano Bellarte, per il doppio impegno del 15 dicembre contro la Slovenia e poi la Spagna. Non solo Parisi vestita all'azzurro, gioia anche per Gabriele Ugherani e il giovane Lorenzo Ezzi. La squadra verde-azzurra nel fattempo, nell'escorsione, è tornata ad allenarsi sui legni del pala del Mauro. Restano da verificare le condizioni di Wilde, rimasto ai box nell'ultimo turno di campionato. Il pluri, decorato, potrebbe tornare a disposizione in vista dell'impegno contro Genzano. Formazione reduce dal pareggio per 1-1 contro il Catania. Al gol di Bokau ha risposto Fusari. Grazie. 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 Grazie.